Ho catturato Luciano con il suo cappello protettivo perché oggi c'è un po' di aria fredda. Sì, tanto. Però hai visto le previsioni? No, è una giornata abbastanza buona. I ragazzi sono abbastanza tanti. Mi sembra che si stiano divertendo a sentirli così, a vedere i vari giochi. Penso che sia una buona giornata, una buona riuscita della manifestazione. Una quarantina ho visto di società che hanno risposto all'invito. 300 erotti partecipanti, un'organizzazione comunque buona del Niardo Vole e un bel centro sportivo. Sì, hanno dato veramente un'ottima mano. Per fortuna perché ci sono società che hanno voglia di impegnarsi ancora e dare una mano. Soprattutto per i bambini perché la riuscita, la cosa più importante, è vedere i bambini che si divertono e hanno dei risultati in questo senso. Oggi si riscopre un po' il valore del gioco in quanto tale, con questi giochi di una volta, con queste scelte anche di far rivivere loro alcuni giochi ormai dimenticati. Sì, in effetti sono dei giochi, a guardarli così sembrano semplicissimi, ma sono abbastanza non complicati per lo spirito del gioco e per il divertimento che ci mettono i ragazzi. Si stanno divertendo tantissimo. Quindi anche se sono giochi di una volta, sono propedeutici all'attività sportiva in sostanza? Sì, sì, ci sono dei giochi veramente propedeutici per l'attività sportiva, anzi ce ne sarebbero ancora da proporre e da far riprovare a vivere, perché penso che i bambini si divertono.